Sicuramente aver raggiunto la quinta compitale in sei stagioni è un motivo d'orgoglio e soprattutto dimostra la grande continuità che ha avuto la società e la squadra in questi anni da quando è arrivato Franco Ciani. Di questo ne siamo orgogliosi, la Coppa Italia è una vetrina secondo me importante come ho detto negli anni scorsi per i giocatori. Mi auguro che quest'anno riusciamo a fare un percorso diverso. Penso che anche in questo, quando il Presidente parlava dell'anno della maturità, questo appuntamento deve darci quella consapevolezza di maturità raggiunta che stiamo vedendo in queste ultime partite. La prima partita con Bologna, la Virtus, in casa sua è sicuramente una partita semplice. Ci poteva capitare qualcosa di meglio. Però è sicuramente un grandissimo stimolo per noi. Mi auguro che anche i giocatori la vedano in questo modo perché riuscire a fare un risultato contro la Virtus nel suo campo davanti ai suoi tifosi potrebbe essere quel più di in più che ci dà quella consapevolezza per poter fare qualcosa più importante quest'anno. Ammetto che negli anni scorsi la Coppa Italia arrivava forse per noi in momenti non bellissimi. Nel senso che avevamo fatto enormi sforzi, eravamo stanchi in quel periodo, non eravamo nel nostro momento migliore. Per cui affrontare la Coppa Italia poteva essere un problema soprattutto per il proseguo del campionato, per cose importanti. di quello che erano le nostre cose del campionato. Quest'anno invece sono contento di andare in Coppa Italia. Stiamo venendo a un momento estremamente positivo. Mi auguro che la Coppa Italia ci dia, come ho detto prima, quella spinta in più per affrontare al meglio per tutto quello che avrà avuto in campionato. In effetti affrontiamo Agropoli domenica. Uno può pensare che possiamo sottovalutare il momento, non tanto Agropoli, ma il momento. Perché siamo felici del ragionamento della Coppa Italia che penso che fino a un mese fa nessuno di noi pensava che potevamo raggiungere questo obiettivo. Però è anche vero che vincere con l'Agropoli, poi abbiamo Biella in casa, ci potrebbe dare la possibilità di giocarci il primo posto in casa nostra contro Biella. E quindi questo penso che sia uno stimolo più che sufficiente per i giocatori.